I militari della Guardia di Finanza di Taranto hanno notificato in Puglia e in altre zone d'Italia l'avviso di chiusura delle indagini preliminari ad oltre 50 indagati dell'inchiesta per disastro ambientale a carico dell'ILVA. Il provvedimento riguarda dirigenti, funzionari e politici. Fra gli indagati figurano nomi eccellenti. Il presidente della regione, Niki Vendola, l'ex assessore regionale alle politiche giovanili e attuale deputato di SEL, Nicola Fratoianni, l'attuale assessore regionale all'ambiente, l'ex magistrato Lorenzo Nicastro, il consigliere regionale del Partito Democratico Donato Pentassuglia e il direttore generale dell'ARPA Giorgio Assennato. Secondo quanto indicato negli atti dell'accusa nei mesi scorsi, Vendola avrebbe tentato di far fuori il direttore generale dell'ARPA Puglia Giorgio Assennato, figura sgradita. Il provvedimento è stato firmato dal procuratore della Repubblica Pietro Argentino e dai sostituti procuratori Buccoliero, Canarile, Epifani e Graziano. Quest'ultimo è titolare di due fascicoli d'inchiesta relative ad incidenti mortali verificatisi all'Ilva di Taranto, fascicoli che sono stati inglobati nell'inchiesta madre chiusa oggi. I reati contestati agli indagati vanno dall'Associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, all'avvelenamento di sostanze alimentari, all'emissione di sostanze inquinanti con violazione delle normative a tutela dell'ambiente. L'avviso di chiusura delle indagini è stato ricevuto anche dal sindaco di Taranto, Ipazio Stefano, formalmente indagato dall'aprile scorso quando fu firmata la proroga di sei mesi dell'inchiesta Ambiente Svenduto. Stefano, che è stato rieletto lo scorso anno a capo di una coalizione di centro-sinistra, è accusato di abuso e omissioni in atti d'ufficio. Per l'accusa non si sarebbe adoperato con le necessarie misure per tutelare la salute dei cittadini.